Carissimi, molte sono le religioni sulla terra, ma una sola è la vera dottrina, quella annunciata dalla Chiesa Cattolica. Vivete immersi in un mare di confusione, di false credenze, di ateismo, di adorazione del potere, del denaro, di voi stessi. Il regno di Dio è vicino e porrà fine a questo stato di cose. Ci sarà un solo ovile e un solo pastore. Presto il Signore allargerà le braccia e ordinerà a tutti gli elementi di fermarsi. La terra fermerà la sua rotazione, tutto si immobilizzerà, persone, macchine, venti, acque, tutto. Il Signore vuole parlarvi, vi chiamerà per nome, squarcerà il velo che vi separa dalla sua presenza, si farà riconoscere da tutti. Capirete che chi vi sta davanti è colui che vi ha creati, e che voi siete sue creature. Vi metterà di fronte allo stato della vostra anima, vedrete come l'avete ridotta col peccato. Vi chiederà se volete rimanere in quello stato o tornare a lui. Ve lo chiederà tre volte. La vostra scelta sarà definitiva, senza appello, senza dubbi. Tutti vedranno la loro vita come un film, il male e il bene che hanno fatto, e cosa ha fatto per loro il Signore. Tutti soffriranno, ma coloro che si troveranno in stato di grazia soffriranno meno, mentre per gli altri i dolori saranno tremendi. Questo per far loro capire quanto il Signore li ami e li voglia con sé. Eletti cari, voi avete già dato nel vostro cuore la risposta, dovrete solo confermarla. La Mamma Celeste, Regina dei Gigli, vi coltiva nel suo cuore immacolato, istruendovi giorno per giorno, e vi accompagna a questo incontro tenendovi per mano. E sarà festa grande. Pace a voi. La Mamma vi abbraccia e benedice.